ragazzi ci troviamo io il mio cugino max siamo al collo del cervadono siamo a 2700 metri purtroppo c'è stato un piccolo incidente si è tolta una pelle max ha fatto una mezza salita con solo scarponi e ramponi faticoso vero max molto faticoso e che cazzo e niente la mia età la cultura è quella di tornare sempre san mi salve raccontare siamo qui a 100 metri dall'ultima parte guardate che spettacolo adesso ci facciamo il discesone non c'è un filo di vento temperatura perfetta perfettissimo ciao ragazzi una mezza sconfitta ma la pazienza ci rifaremo dai va bene così ciao ragazzi ciao a 53 anni tutte e dure 64 il pelle più vecchio